Vediamo qui vorrei fare una precisazione perché io ho parlato di cento di simmetria cento di simmetria delle cariche prima di tutto chiariamo perché non c'erano le cariche quando ci sono io devo avere un legame x, y analizzo le fasi alle cariche facendo che cosa? la differenza del valore dell'elettronegatività è scritta su tutte le tavole periodiche in quando questa differenza del valore di elettronegatività è il valore assoluto quindi il più grande meno il più piccolo in base a questa differenza di elettronegatività quindi delta L uguale elettronegatività di x meno elettronegatività di x valore assoluto valore assoluto che cosa? cofrisco individuo tre zone la prima zona che va da 0 a 0,4 la seconda zona da 0,4 a 1,8 la terza zona da 1,8 ora quello che conta è la seconda zona quando siamo nella seconda zona che cosa dovremmo? che cosa dovremmo? basta adesso una indicazione di tipo grazie indicazione di tipo qualitativo è chiaro o no? allora prima condizione per noi che cosa abbiamo? le molecole in base alle molecole la struttura e la geometria le dobbiamo avere è chiaro o no? una volta che abbiamo la struttura e la geometria non dico cascoliamo le parziali cariche ma vediamo se ci sono secondo aspetto analizziamo se esiste un centro di simmetria centro di simmetria io mi sono tenuto sul banco adesso rispondo in modo un pochino più preciso centro di simmetria che cosa vuol dire? io vado a vedere il centro delle cariche positive e il centro delle cariche negative se i due centri coincidono che cosa vuol dire? che la molecola è tra virgolette simmetrica simmetrica dal punto di vista della polarità è chiaro o no? state attenti che la simmetria delle molecole è un argomento approfondito che ha diversi sviluppi io sto analizzando una situazione molto particolare il centro delle molecole io dico che la molecola è simmetrica ed è l'unico studio di simmetria che faccio con voi quando il centro delle cariche negative coincide con il centro delle cariche positive facciamo subito un esempio immaginiamo di avere una molecola di tetra floro metano questa siamo d'accordo? angolo di 109 gradi tutto quello che vuol dire le cariche qui sopra ciascuno c'è una parziale carica negativa e sopra nel caravoglio che posevo 4 parziali cariche positive siamo tutti d'accordo o no? allora questa molecole è simmetrica perché è simmetrica? se io cancello lascio più da parte la carica positiva vado a vedere il centro delle cariche negative il centro delle cariche negative che cosa è? poi potreste dire quindi questo è sempre 9 gradi non è 90 gradi ma con 90 gradi non cambia nulla questi flori come sono distribuiti con l'uniforme nello spazio chiaro? lo spazio che cosa è? sono distribuiti uniformemente nello spazio sulla superficie di una sfera quindi il centro delle cariche negative dov'è? quindi o meno 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 il centro delle cariche negative si può esattamente nel centro di questa sfera avete capito? no? sì ah bene ebbene quando è che la molecola simmetrica ha un centro di simmetria quando quel centro delle cariche negative coincide con il centro delle cariche positive le cariche positive dove sono? sono queste giusto dove stanno? esattamente in mezzo quindi due centri coincidono alla molecola non è polare per motivi di simmetria avete capito bene o no? io l'avevo messo sul valago in modo che voi cominciaste a aperte virgolette masticare questo concetto adesso l'ho sviluppato per bene prendiamo la molecola il fatto che il centro delle cariche positive il centro delle cariche negative coincide fa sì che in un momento la somma dei vettori dei momenti dipolari sia nulla mettiamo a tutti vediamo un secondo esempio l'acqua nel caso dell'acqua noi abbiamo pure parziali cariche negative qua le due parziali cariche positive qua i vettori abbiamo visto che sommati non si annullano qual è il centro delle cariche beh le cariche negative sono lì non devo discutere oltre giusto? il centro delle cariche positive dov'è? le cariche positive sono una sopra una sotto posso dire che il centro delle cariche positive si è messo lungo questo asse giusto? giusto o no? i due centri sento cariche positive sento cariche negative con ciclo no quindi la molecola non è la molecola è appoglata avete capito bene? è chiaro a tutti? va bene? benissimo allora una volta che abbiamo capito questo possiamo posso chiamare tranquillamente piena la davagna non tu vicino allora e da una parte io voglio che voi facciate facciate una piccola tabella così vi è utile nell'esempio qui scrivo cariche esempio cariche e qui che cosa metterò? sento va bene? vediamo il primo esempio eccoli qua molecola CS2 la costruiamo facciamo la geometria vediamo le parziali cariche vediamo se si mette o no quindi stabiliamo se è una molecola corale è chiaro a tutti questo tipo di esercizi o no? sempre cariche centro di simmetria va bene? allora S dove si trova? si trova esattamente sotto lo sito quindi la configurazione elettronica come sarà esattamente uguale a quella dell'ossigeno perfetto quindi prima di tutto che cosa abbiamo? due doppi legami giusto? giusto o no? due doppi legami se l'avete una tabella sott'occhio differenza di elettronica qui ci sono doppi legami ma se ci siano doppi semplici o tre di chi basta che io overvaluti la differenza di elettronica negatività del grado giusto? calcoliamo si delta e n forza delta e n uguale differenza del carbon x sostituiamo carbonio e dall'altra parte mettiamo zolfo valore assoluto differenza di elettronica di elettronica del carbonio quanto è? 2,5 giusto? se voi leggete quella dello zolfo mi sembra che sia 2,5 comunque non è tanto differenza se l'avete la tabella sott'occhio o no? 2,5 zolfo e 2,5 carbonio differenza di elettronica di elettronica di elettronica quanto è? zero giusto? se quindi è zero dove siamo nella zona 1,2,3 è chiaro la separazione delle zone? siamo nella zona 1 ci interessa qualcosa? no ci sono parziali cariche quindi veniamo qua e scriviamo no c'è un centro di simmetria in questo primo esempio in teoria dovrebbe non essendosi le parziali cariche non possono neanche valutare questo centro comunque e quindi diciamo che non c'è perché non lo posso neanche valutare ok anzi scriviamo non esiste perché non esiste perché per calcolare il centro che cosa bisogna delle parziali cariche e quindi se non ci sono parziali cariche il centro di simmetria non esiste è chiaro a tutti o no? sì adesso prendiamo una seconda molecola e chiave a tutti cancella H2OH no qui H2OH acido fuoco benissimo allora perfetto allora benissimo perfetto mettiamo il carbone al centro benissimo gli angoli cerchiamo di rispettarli anche se competendo nel compito l'uso del cognometro e però anche la distanza se ho un doppio legame se ho dei legami semplici come sarà la distanza del doppio legame minore dei legami semplici maggiore è chiaro, perfetto siamo d'accordo? più o meno la distanza dei legami deve essere uguale perfetto angolo evidenzia l'angolo che c'è? ma tipo non ci sono che c'è la cosa che cosa abbiamo? la stonda C quante entità ci sono? tre cento bene perfetto benissimo 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 invece il legame OH quanto sarà? cose OH che cosa abbiamo? fai le due coppie hai dimenticato le coppie dell'ossigeno? disegnate anche sopra quante entità possiede l'ossigeno? quattro con quattro entità su cosa bisogna partire? con cento e nove viaggola cinque prima coppia cento e nove viaggola cinque si riduce a cento e sette viaggola cinque che è quello che succede per l'azzono seconda coppia cento e quattro viaggola cinque quindi l'angolo l'evitenza l'angolo cento e quattro benissimo cento e quattro viaggola cinque sì avete capito bene o no? sì adesso scriviamo le parziali cariche dov'è che ci sono delle parziali valutiamo la differenza di elettronegatività qui va di tutto togliamoci subito dalle subito e ragionamento tutte le volte che c'è un legame CH la differenza di elettronegatività è 0,4 giusto? sì quindi che cosa vuol dire? che sono sul bordo della zona 1 ma il bordo si trova ancora all'interno della zona 1 mettiamo quindi se c'è il legame CH se ne paghiamo all'area ci sono altri due legami che contano uno è il legame CO e l'altro è il legame CS o anche quindi CO e OH no non lo so questo capoglio elettronegatività 2,5 assiceno 3,5 quindi 1 giusto? sì 3,5 o 3,6 H è 2,1 meno 2,1 perfetto allora cosa abbiamo? 1,4 a volte le parziali cariche giusto? le parziali cariche tra ossigeno e idroseno sono diverse dalle parziali cariche che ci sono tra carbonio e ossigeno giusto o no? mettiamo un numero o una lettera delta A o delta 1? delta A allora tra ossigeno e idroseno in realtà potremmo anche no c'è un doppio regalo quindi devi evitare il carico tra ossigeno e idroseno che cosa scriviamo? delta A quindi delta A sopra l'ossigeno no che cancella cancella sotto teniamoci la moneta scusa era ben chiaro l'unica cosa che dovete ricordare che cos'è in base a quello che non è scritto che i dati i dati quali sono? 1 e 1,4 dove stanno? nella zona 2 giusto o no? sì quindi le fazze le cariche si sono allora sopra l'ossigeno scriverai esaminiamo il legame ossigeno e idroseno vicino all'ossigeno delta A come sarà? negativo o positivo? sarà negativo negativo benissimo no non scrivi solo delta A meno un meno e l'altro che mi scriverai delta A più giusto? sì poi sopra invece il carbonio il legame carbonio-ossigeno che cosa scriveremo? c'è un'altra parte delle cariche che aveva il legame che abbiamo detto delta B quindi l'ossigeno comunque avrebbe sempre il valore negativo quindi sopra si scrivelo sopra che cos'è delta B meno e sopra il carbonio delta B benissimo domanda il centro delle cariche negative dove si trova? il centro delle cariche negative è ovvio dove si trova? sull'ossigeno giusto o no? le cariche negative le cariche positive una è sul carbonio l'altra sull'idrogeno ossigeno-idrogeno carbonio-idrogeno non sono a 180 gradi quindi il centro non coincide giusto o no? giusto quindi la molecola non esiste un centro di simmetria delle cariche quindi non esiste esistono le cariche? no è certo che esistono sì siamo più precisi cariche scrivi una p che sta per parziali cariche parziali esistono? sì sì allora scriviamo il risultato anzi non l'ho saltato cancella HCOH di fianco della prima molecola che cosa scriverai? quello che conti? sì cancela quello a fianco della prima liga che cosa scriverai? volare vola sì no sotto sì volare e sotto che cosa scriverai? no scusate non volare stavo pensando al secondo esempio non volare va bene lo stesso ma volare non volare è la stessa cosa sotto che cosa scriveremo? volare volare si chiama tutti o no? sì sì o no? velocemente mettiamo sì cancella C2 H6 O anzi siamo più voglio dare una mano CH3 CH2 O H benissimo benissimo partiamo dai due caponi e li agganciamo benissimo allora ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una è sull'ossigeno e l'altra sulle dose. Quindi direi che non c'entrano affatto, giusto? Quindi, questo siamo di nuovo nel secondo caso. È inutile che lo scriviamo, se vuoi scriverlo lì sotto. Siamo sempre nel caso HCOA. Perfetto. Stiamo detto, ecco là. E siamo a tutti o no? Sì o no? Siamo d'accordo? Vediamo adesso. Sare, l'abbiamo già fatto, ma così lo ripassiamo. CO2. C'è l'ho fatto. C'è l'ho fatto. CO2. CO2. Tipico esempio, nelle cantine dove avviene la fermentazione del vino. C'è l'ho fatto. Non può perdere, se no gli animali, gli amanti che gli animali potessano. La possibilità qual è? Una candela tenuta bassa. Se la candela si spede, è chiaro che manca l'ossigeno e quindi è meglio andare via o cercare di aerare il locale. E' chiaro a tutti? Sì. Benissimo. Angolo 180 gradi. Giusto? Identifichiamo le facce alicariche. Perfetto. Allora. Se siamo sempre nella zona 2, quindi che cosa avremo? Delta. Non è necessario essere due delta. Delta è sempre lo stesso delta perché il legame è uguale, quindi che cosa avremo? Delta più sul carbonio. Delta due volte delta più. Ecco. Il centro delle cariche negative dove si trova? In mezzo. In mezzo, che cosa abbiamo? Anche il centro delle cariche positive. Esiste tra virgolette il centro di simmetria. Quindi cosa vuol dire il centro di simmetria? Il centro delle cariche positive coincide con il centro delle cariche negative. La molecola è polare? La molecola è polare? No. Allora, scriviamolo qua. CO2. Esiste il centro di simmetria, sì? La molecola com'è? Apolare. E' apolare tra il centro di simmetria. Allora, capite? Ma dovreste averlo già visto in matematica cosa vuol dire condizione necessaria. Ma non sufficiente. Per avere la molecola polare necessario che ci siano le parti alle cariche. Se no il discorso è più soggiorno all'inizio. Ma non basta, ci vuole anche una geometria non simmetrica. E' chiaro a tutti o no? Però, lo studio. Ma nel primo c'è S2, ma c'è il centro di simmetria? No, perché il centro di simmetria è il 2. Allora, ho detto. Chiariamo bene questo concetto. La simmetria in chimica si studia in modo approfondito. Quindi, quando io parlo di simmetria, devo dare una definizione ben precisa che non avevo dato. Perché già volevo che cominciassi a familiarizzare. Va bene? La mia definizione di simmetria, che serve per definire se la molecola è polare o no, è la seguente. Analizzo il centro delle cariche positive. E' il centro delle cariche negative. Se non c'è il centro, allora se non ci sono le cariche, allora non c'è il centro. In realtà esiste nella molecola di CO2 una cosa che si chiama centro di inversione. Che potrebbe essere, che coincide con il carbonio, e che potrebbe essere assimilato al centro di simmetria. Quindi, se vogliamo, potresti anche scrivere sì, se identifico il centro di inversione con il centro di simmetria. Però, il centro di simmetria, il centro di inversione, qualche volta coincidono, qualche volta no. E' chiaro? Benissimo. Allora, abbiamo capito? Adesso vediamo l'ultimo esempio, l'avevo già dimenticato. Se, velocemente, se al posto di un ossigeno lo tolgo e sostituisco con uno zolfo, cancello un ossigeno e sostituiscilo con uno zolfo. Si trova nella tavola periodica esattamente sotto, quindi la situazione elettronica è la stessa. Questa domanda, dovresti pensare, CS, di cosa abbiamo detto? Che c'è la stessa elettronica negatività, l'abbiamo visto prima, giusto o no? Sì. Quindi ci sono parte delle cariche relativamente collegate? No. Quindi abbiamo solo un delta più o un delta meno. La molecola, il centro delle cariche positive dove è messo? un taglietto, i due sensi non coincidono, quindi mi sembra ovvio che la molecola sia volata. E' chiaro o sì o no? Sì. Ok? Va bene? Velocemente. Vediamo se in base, io non ho spiegato la numeratura, esiste nella facoltà di chimica, farmacia, eccetera, un esame dedicato solo alla nomenclatura dei composti chimici. E' chiaro? Che chiaramente è fondamentale, perché se uno maneggia delle sostanze deve già sapere dare il nome, oppure dal nome sapere che tipo di sostanze ci sono. E non è neanche un esame facilissimo. Ebbene, chiaramente, sarebbe bene vedere qualcosa, ma mi manca il tempo. Perciò non è che faccia molta nomenclatura. Allora, vediamo però se c'è lì. Se io ti scrivo, se io ti dico il nome, 3-fluoro-metano. Cancella e scrivi 3-fluoro-metano. Allora, la prima di tutto, ricordati che il metano che cos'è? C'è l'acqua, ma non, c'è l'acqua, giusto? Sì. 3-fluoro, che cosa vuol dire? 3-fluoro-metano. 3-idrosidi e 10-fluoro. Costruiti la molecola, veloce. Perfetto. Perfetto. che il fluoro è più elettronegativo fra tutti gli elementi non forma molti composti ma è più elettronegativo quindi fluoro è 4 e carbonio è 2,5 quindi abbiamo una delta L 1,5 siamo tutti d'accordo? 1 allora quindi scrivelo così ve lo ricordate 1,5 che cosa vuol dire sono nella zona duro giusto? vuol dire che ci sono le parzioni cariche che mi interessano d'accordo tutti? allora scrivi le parzioni cariche scrivi solo delta bellissimo, delta più delta più perfetto e anche lì manca un tempo perfetto siamo tutti d'accordo su questo? adesso ragionate con me prima di tutto voi potreste dirmi evidenzia l'angolo evidenzia gli angoli quattro angoli che cosa sono? non sono dati ma sono 109,5 fai una una specie di simbolo che rappresenta l'angolo 109,5 benissimo 109,5 voi potreste dirmi che se volessi fare un discorso pulito e identificare il centro non dovrei scrivere agli angoli di 90 lì lui ha scritto 109 ma in pratica come sono scritti alla lavagna come è venuto di 90 gradi giusto? perché ve lo si ha detto spero che sia chiaro la scrittura di 109 richiederebbe un disegno tridimensionale che non è la cosa più facile di questo mondo chiaro o no? siamo tutti d'accordo? benissimo però anche se noi lavoriamo quindi voi lui potrebbe dirmi se io voglio calcolare il centro delle cariche negative avrei bisogno di che cosa? del modellino tridimensionale siamo tutti d'accordo o no? però io non voglio non ho bisogno di un calcolo preciso mi basta solo sapere se la molecola è colare o no mi sembra ovvio che se io prendo tre fluori e mi manca il quarto che cosa succede? questi tre fluori non si distribuiscono in modo uniforme nello spazio su una sfera attorno al centro è chiaro? se volete sono su una sfera ma non sono distribuiti in modo uniforme su questa sfera quindi il centro delle cariche negative dove si trova? si trova sul centro cioè sull'atomo di carbonio ho fatto questa domanda sì no no ho detto prendiamo l'atomo di carbonio giusto? al centro se noi avessimo cf4 i quattro fluori dove vanno a finire? sulla sfera giusto? e sono distribuiti in modo uniforme sopra questa sfera quindi il centro di questi atomi di fluoro centro delle cariche negative coincide con il centro della sfera giusto o no? se invece io ne ho solo tre atomi di fluoro va bene? distribuiti su questa sfera come sono distribuiti? così a occhio direi che sono distribuiti tutti su uno stesso non sono distribuiti in modo uniforme ne ho tre su un emisfero e uno solo nell'altro comunque non sono distribuiti in modo uniforme nella sfera questi tre è chiaro o no? quindi il centro di queste cariche negative si trova nel centro della sfera no? è diverso avete capito? il centro delle cariche positive dov'è? sul carbonio quindi domande due centri coincidono quindi la molecola è polare o no? sì quindi la molecola è polare avete capito bene o no? sì è chiaro a tutti? è chiaro? quindi scrivi cancella sopra cancella N1 cancella tanto H su H ma è lo stesso e scrivi CF3 H CF3 H se invece di avere CF3 H avessi avuto CF4 l'avevo già fatto all'inizio che cosa avevo? centro delle cariche negative coincide con il centro per le cariche positive e quindi è a polare avete capito bene o no? sì perfetto cancella veloce torniamo di nuovo sugli esempi che io avevo fatto a lezione in modo da avere una panoramica completa va bene? così infilo anche se non l'ho spiegata l'ho solo accennata un po' di nomenclatura scrivi Cis 1,2 di fluoro e filete di fluoro dopo il 2 ci vuole un tattino di fluoro e filete è chiaro? allora vi posso subito usare la formula sarebbe C2 H2 F2 è chiaro? partiamo dai due adesso facciamo una cosa veloce sappiamo che il carbone ha bisogno di 4 legami giusto? l'idrosio non ha bisogno di 2 il fluoro non ha bisogno di 1 ma ce ne sono 2 il fluoro anche esso non ha bisogno di 1 ma ce ne sono 2 perfetto uniamo perfetto bravo 1,2 l'enumerazione è fondamentale quando ho gli ordini le catene questi numeri identificano gli atomi di carbone perfetto bene perfetto allora piccola osservazione manca un legame il carbone deve averne 4 quindi facciamo un doppio legame quando c'è un doppio legame noi che cosa abbiamo? abbiamo l'impossibilità della rotazione però che cosa vi avevo detto? che quando c'è cis quindi il doppio legame è bloccato quando c'è cis vuol dire che stanno se questo è il doppio legame stanno dalla stessa parte quindi come devo disegnare i due atomi di fluoro tutte e due sotto o tutte e due sopra quello è l'isomero trans questo è trans quindi cancello un idrogeno quello lì metti cf e scrive questa risonazione o cis giusto o no? ci siamo tutti di vero perplessi o solo aumentati allora noi che cosa abbiamo qua? noi abbiamo il legame c h c c come al solito non conta quello che conta è il legame c f giusto? faccia le cariche negative sul fluoro faccia le cariche positiva sul carbone muovasi benissimo identifica il centro delle cariche negative qua perfetto centro delle cariche positive bene sarebbe sul legame qui sopra benissimo domanda i due centri coincidono no quindi la molecola è polare mettiamo a tutti o no aspetta mettiamo polare vediamo velocemente disomero trans cancello qua? no cancella lì tanto l'avete visto tutti ci sono aspetta ci sono domande? no benissimo disomero trans allora benissimo sento le cariche negative dove sarà? qua qua? benissimo parlo e sento le cariche positive dove è? sempre lì sempre lì quindi mi sembra ovvio che non è polare che la molecola sia non polare è chiaro o sì o no? sì ok adesso vediamo se devo andare avanti sì io non vi chiedo la nomenclatura perché non l'ho spiegata vorrei solo che mi familiarizzassi io nell'interrocazione vi la voglio io la formula è chiaro o no? sì allora se non l'ho ancora fatta vediamo se riesci a capire cancella trans e scrivi cancella anche il fattino e scrivi 1,1 qui non ho né isomero cisne trans basta il no secondo te come sarà l'1,1? c'è non è né cisne trans non ho bisogno di aggiungere questo la foto è composta come sarà? i due flori dove staranno? tutte e due sullo stesso atomo di carbonio sullo stesso atomo di carbonio due atomi di carbonio sono numerati 1 più 2 i numeri che ci sono prima indicano dove sono agganciati gli atomi di floro se io dico 1,1 di floro di floro vuol dire che ci sono due atomi di floro sì e 1,1 cosa vuol dire? che sono tutte e due agganciati sull'atomo di carbonio 1 è chiaro? quindi cancella il idrogeno sopra e se stai cancella il idrogeno sopra e il floro e dall'altra parte che cosa si servono? due cose c esatto farei c con il doppio legame c2 ho detto di floro e di leno quindi avete capito? sì quindi in questo caso perché non ho bisogno di c7 perché se io vi dico 1,1 identifico già la molecola senza dubbio è chiaro o no? domanda questa molecola per concludere le bellezze è colare o no? dov'è il centro delle cavi più negative? dove è messo? in mezzo qua benissimo il centro il centro delle cavi più positive dove è messo? no? sul cavolo quindi qui coincidono i due centri? no la molecola sarà? colare è chiaro a tutti? quindi io direi che allora vediamo solo le cose gli esercizi più o meno saranno di questa zuppa giusto? teoria richiedevo la teoria degli orbitali molecolari giusto? la teoria della risonanza di Kekulé e automaticamente anche quello che vi ho spiegato della teoria delle bande l'applicazione del semicondruttore di tipo P e di semicondruttore di tipo M è chiaro? per te se è arrivato dopo mi accontenterò di questi esercizi che penso che abbia fatto ok? allora avete chiesto a proposito al mio collega di elettronica se siamo disaccordo sulle mie affermazioni magari prima di uscire da questa scuola prima dell'esame di maturità vediamo di chiedere di far vedere quello che io vi ho detto è chiaro al mio collega vedere se lui concorda sulle mie affermazioni è chiaro a tutti o no? allora per la prossima volta che sarà? dove lì non ci sono scuole interrompi è chiaro a tutti o no? Grazie.